Dopo un po' di riflessioni, dopo molte cose che ho pensato tra me e me, la mia famiglia, dopo tanti anni di calcio, ho pensato che è arrivato il momento che domenica sia la mia ultima partita da giocatore professionista. E quindi sinceramente sono anche molto emozionato perché questa sarà la mia ultima conferenza da giocatore. E quindi è stata una decisione difficile e sofferta, però è anche giusto smettere perché penso che sono arrivato con la testa alla fine per quello che riguarda il calcio giocato. E quindi domenica purtroppo, perché sarà una giornata, è tutta una settimana, sono già due o tre settimane che ci penso, per me sono state settimane veramente difficili perché visto il momento, visto l'annata, visto i miei pensieri, sono state settimane difficili e sono sicuro che da qua domenica saranno difficili. Sarà un misto gioia e tristezza perché dopo tanti anni lasciare il calcio è difficile. Però sono arrivato alla conclusione che è giusto che domenica sia la mia ultima partita qui allo Stadio Bentegodi contro la Juve. Stadio Bentegodi contro la Juve. Questi casi sono difficili, molto difficili da trovare e quindi come sempre, semplicemente, con il numero 10, viene la ricetta del capitale Antonio Totò! Pidane! 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 Siamo un kiss, i'll reach for the sky, Can't you feel my heart beat so? Grazie a tutti. Grazie a tutti. What a difference a week makes. It's hard to believe that this is the last day he'll make this walk at Old Trafford as Manchester United manager. About to leave the Old Trafford tunnel for one final emotional time. A guard of honour is the most respectful tribute for the man they all call the boss. It is hard to believe that this is the last day he'll make this walk at Old Trafford as Manchester United manager. That next season a different Scotsman will fill the role. The impossible job of taking over from Alexander Chapman Ferguson. Who even when growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Who even when growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Who even when growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Who even when growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Who even when growing up on Govan Road number 667 went one better than the average Red Devil. Ladies and gentlemen, this club has been privileged to have many fantastic footballers wearing the famous Red shirt over the years. But this player, this man is truly unique. After growing up as a Red who dreamt of playing in front of the Cop, he went on to make 700 late appearances. 502 in the Premier League, scoring 119 goals and winning almost all there was to win. For those of you in the club and the lowest centenary, please raise your cards now to welcome your captain onto the pitch for his final game at Anfield. Ladies and gentlemen, the one and only, Stephen Gillard! Ladies and gentlemen, the one and only, Stephen Gillard! Ladies and gentlemen, the one and only, Stephen Gillard! Grazie a tutti.